Operazione dei carabinieri del comando provinciale di Catanzaro contro un'organizzazione di ladri di automobili composta da persone di etnia Roma che agiva nel capoluogo compiendo decine di furti al mese. 20 gli arresti eseguiti dai militari del reparto operativo su disposizione della Procura della Repubblica di Catanzaro. I carabinieri hanno affettuato gli arresti con un blitz notturno nei quartieri di Catanzaro tradizionali roccaforte della criminalità Roma che da sempre affligge il capoluogo. Perquisite anche decine di abitazioni.